Quando la decisione fu presa nel 2015, la situazione economica in Italia non era certamente stabile quanto lo è oggi. Convincere il management del gruppo circa le nostre capacità imprenditoriali, manageriali ed ingegneristiche non è stato un compito facile. È stato un grande riconoscimento per il nostro brand e una decisione coraggiosa, ma oggi stiamo dimostrando che è stata la decisione giusta. Il modello operativo Urus rappresenta una vera applicazione 4.0 in uno stabilimento automotive integrato, equipaggiato con logistica e linee di produzione automatizzate, robot collaborativi e lavoratori di alta professionalità, che forniscono tutti insieme un flusso informativo continuo. L'innovazione è fortemente focalizzata al miglioramento della competitività del prodotto grazie all'ottimizzazione dei costi e alla flessibilità.